Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Nonato di Brescia con questo gruppo di amici che viene dal Friuli, Venezia, Giulia sono un gruppo di amici che sono venuti a festeggiare l'inaugurazione diciamo di una nuova ditta in questo momento diciamo di crisi, di difficoltà giusto ragazzi? Allora il portavoce scegliamolo quello che è già venuto al convento si chiama? Luca Allora Luca dimmi da dove venite come paese? Noi Reana del Royale Provincia di? Udine Provincia di Udine Siete venuti qui al convento quindi inaugurare questa nuova esperienza di lavoro e loro diciamo sono le due segretarie giusto? Esatto Sono le nuove segretarie lei diciamo fa l'import-export dai paesi asiatici lei poi invece l'altra ragazza bionda fa Italia e Europa e voi diciamo fate gli operai sono in amministrazione diciamo tengono i conti in regola ok e che conti diciamo contano l'importante che contano in maniera corretta allora siete pronti a cantare ragazzi? si ok che canzone volete cantare? io vagabondo io vagabondo però oltre le ragazze vi puoi dire anche il nome degli altri sei ragazzi che sono qua con te vai vicino al microfono Alberto Alberto Fabio Fabio che è quello che non vuol parlare mi raccomando non farvi parlare Florence Florence Stefano Stefano Massimo Massimo Elia Elia e le due ragazze che si chiamano Anna e Zen l'ultima come si chiama? Zen Zen tre lettere Z E N Zen è facile Sega eh si pronti a cantare il vagabondo? vai Fabio sei pronto? vai è prontissimo Fabio è anni che prepara io il vagabondo prima di andare a dormire la canta sempre vai 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 io un giorno crescerò e nel cielo della vita volevo ma un bimbo che ne sa sempre a zura non può essere oi oi una notte di settembre il vento sulla pelle ma che brava Zen la conosce tutta anche lei sul mio corpo il chiarore delle stelle chissà dove era casa mia e quel bambino che giocava in un po' la faccia rubina io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro sono di tasca non ne ho ma lassù mi è rimasto mio oh la sa tutta Fabio non ha sbagliato ancora un attacco la strada è ancora là dai su le mani utile dai tutti insieme un deserto mi sembrava la città ma un bimbo che ne sa sempre a zura non può essere l'età dolce voi una notte di settembre mi svegliai il forno di un cammino non è caldo come il sole del mattino chissà dove era casa mia e quel bambino che giocava in un po' la faccia rubina io vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro sono di tasca non ne ho ma lassù mi è rimasto mio vagabondo che sono io vagabondo che non sono altro sono di tasca non ne ho ma lassù mi è rimasto mio bravi i nostri amici la nostra nuova azienda che nascerà viva gli amici da Udine grazie